Era ai domiciliari ma continuava a gestire lo spaccio in casa con la madre e quanto emerge dall'inchiesta che questa mattina all'alba a Milazzo ha portato a 12 misure cautelari. 11 persone sono finite in carcere e una ai domiciliari per traffico, detenzione e spaccio di droga. Le misure cautelari sono state eseguite all'alba dai carabinieri di Milazzo su decisione del GIP di Messina che ha accolto la richiesta della procura. L'operazione a cui hanno partecipato 50 militari dell'arma e il risultato degli esiti di una indagine condotta dalla compagnia di Milazzo e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia da cui sarebbe emersa l'operatività di un'associazione criminale dedita allo smercio a Torregrotta di cocaina, crack, hashish e marijuana. Gli acquirenti erano della stessa zona o provenienti da Milazzo e altri comuni del Mamertino, nonché da Messina e Barcellona Pozzo di Gotto. L'attività investigativa è iniziata grazie anche alle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini. Due, i promotori e organizzatori del gruppo criminale, operanti a Messina, che tramite una rete di corrieri e staffette avrebbero rifornito della droga i sodali presenti a Torregrotta per lo spaccio al dettaglio. La base operativa del sodalizio si trovava nell'appartamento di un indagato che nonostante si trovasse agli arresti domiciliari avrebbe gestito a Torregrotta lo smercio al minuto della droga, avvalendosi anche dell'abitazione della madre, essa stessa destinataria della misura cautelare per l'occultamento delle sostanze e la custodia del denaro. Nella maggior parte dei casi le dosi sarebbero state consegnate all'interno del suo domicilio, mentre in altre lanciate direttamente dalla finestra. Per eludere i controlli alcuni spacciatori nascondevano la droga sotto l'imbottitura dei caschi. Quattro indagati sono stati arrestati in flagranza di reato. L'indagine ha consentito inoltre di identificare numerosi assuntori che sono stati segnalati alla prefettura di Messina. Complessivamente nei vari servizi sono stati sequestrati oltre i 600 grammi tra cocaina, crack, hashish e marijuana.